Una vera doccia fredda per il Comune che non aveva avuto alcun sentore di una svolta negativa nella vicenda dell'Hotel Ibis, la vice sindaco con delega allo sviluppo e lavoro Maura Ruggeri, insieme all'assessore con delega al commercio e turismo Barbara Manfredini, ha incontrato i sindacalisti che hanno seguito l'avvertenza riguardante l'Hotel Ibis e da loro ha preso dell'impossibilità, almeno nell'immediato, di poter contare su una continuità dell'attività alberghiera che stavaguardasse il posto di lavoro agli attuali dipendenti. Nel colloquio avuto con i rappresentanti sindacali a nome dell'amministrazione comunale, Ruggeri e Manfredini hanno innanzitutto confermato la massima solidarietà verso i dipendenti e manifestato grande preoccupazione per la situazione che si è venuto a determinare, dichiarando nel contempo la massima disponibilità di intraprendere a fianco dei sindacati e dei lavoratori ogni contatto di iniziativa utile a rilanciare un'offerta alberghiera, importante risorsa per il territorio in un momento in cui si sta investendo molto e si sta lavorando intensamente per rilanciare l'offerta culturale e turistica della città, ma soprattutto per salvaguardare posti di livello. in un periodo di congiuntura economica tanto negativa.